buongiorno giornata del peso andiamo andiamoci a pesare ok è spento accendiamo se non dite che è tarocca zero niente raga 122.0 ho perso 9 grammi va bene 900 io che la matematica raga niente che delusione guarda vabbè calcolando che i miei haters erano era 122.9 dicevano è 123 adesso allora è 122 vabbè raga cose che capitano non è che è normale più pierino mettiamoci anche quello che anche quello lì sta arrivando quindi vabbè è così però non mi abbatto perché comunque da 122.9 sempre 122.0 quindi ho perso comunque sono super felice uguale dico la verità adesso andiamo a faculazione e niente raga sono felice anche perché i jeans erano entrati il maione è entrato la maglietta è entrata quindi vuol dire che ha dimagrita sono dimagrita vabbè raga sono felice uguale volevo vedere 121 però non fa niente la settimana prossima vedrò il 121 è normale che dopo un po il peso smettete a scende velocissimo però non fa niente arriverò uguale a 100 kg per natale quindi non non mi faccio problemi non va battete raga pure voi quando vedete che la bilancia è in grammo in più un grammo in meno sì lì per lì è normale ci rimanete male però non va battete cioè continuate comunque la dieta non dovete dire ah non è 121 che ne so allora mangio no raga cioè continuate fatevi il vostro giorno sgarro fatevi ovviamente la dieta fatta bene cioè non non smettete ecco quindi andiamo avanti e settimana prossima sarà di meno lo so anche perché è già di meno 122 9 8 che era 122 0 per un gra no 100 grammi amo per 100 grammi ti rendi conto se no era 121 sarà settimana prossima buongiorno raga vado a fare colazione